Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand della Balugani SRL, una società che realizza e commercializza prodotti e sistemi per la filtrazione dell'acqua in ambito oreca ma soprattutto in ambito vending. Ci troviamo in compagnia di Nadir Balugani, l'amministratore delegato dell'azienda che accolgo con un bentornato Nadir. Ciao Fabio, grazie mille, grazie a tutti. Grandi novità qui a Venditalia 2024 anche grazie a ciò che state presentando. Sì esatto, abbiamo tante novità e soprattutto nel mondo vending c'è il nuovo prodotto che si chiama Zero che è un addolcitore a sale che va installato nei distributori automatici che sono dotati di allacciamento idrico e come tutti i distributori non sono dotati di scarico perciò rigenera utilizzando il secchio di scarto del distributore o una tannica aggiuntiva. Pertanto l'operatore che va a fare questi rifornimenti e carico macchina prima di svuotare e rifornire comunque il distributore avvia la rigenerazione di questa macchina, di questo addolcitore che è già installato e in 12 minuti la macchina rigenera completamente. Il costo per rigenerazione si aggira intorno ai 20 centesimi che dovrà effettuare l'operatore periodicamente attorno ogni due o tre mesi di utilizzo del distributore perciò nell'arco di un anno questo addolcitore verrà a costare all'incirca 1 euro, 1 euro e 20 di costo macchina. Abbiamo praticamente fatto qualche conteggio nell'arco di 10 anni che è l'utilizzo medio di questo apparecchio saremo intorno ai 12 euro di costo di gestione in 10 anni. Un costo di esercizio che è davvero infinitesimale considerando anche che il prezzo del prodotto è estremamente sostenibile. tutti i gestori piccoli, medi o grandi possono aderire all'acquisto di questo prodotto anche con multipli di prodotto, decine o centinaia di pezzi e voi in questo caso fate anche una sostanziosa offerta. Sì esatto, il prezzo del listino è intorno ai 799 euro, ovviamente costo 50% ma si può tranquillamente su multipli di distribuzione si può tranquillamente scendere, con questo importo si può tranquillamente scendere. Nadir, questa non è l'unica novità che presentate in questa occasione? No, abbiamo anche degli erogatori d'acqua, erogatori d'acqua d'uso casalingo perché oramai tutto il mondo anche del privato e comunque del vending, del piccolo ufficio si sta, diciamo così, sta deviando sull'acqua in borraccia, in caraffe, perciò stiamo presentando due erogatori dell'acqua sopra banco a livello casalingo o per il piccolo ufficio che erogano sia acqua calda, perciò va a eliminare comunque il solito bollitore, e acqua fredda, acqua dosata, perciò già all'interno anche della macchina ci sono due filtri, uno a carboni attivo e uno nanometrico, perciò comunque una microfiltrazione, e perciò l'operatore che installa, il tecnico che installa questa macchina deve solo, è proprio una macchina plug and play, deve solo portare il tubicino dell'acqua che proviene o dal distributore o comunque da un punto di prelievo. Ricordiamo che voi avete un importantissimo plafond di prodotti legati alla depurazione e alla filtrazione dell'acqua, sia per il Venni ma anche e soprattutto per la sezione Oreca e Food Service. Sì esatto, tutti i nostri prodotti sono visibili sul nostro sito www.balugani.srl.it e potete tranquillamente contattarci a info.balugani.srl.it Grazie, sei stato assolutamente conciso, noi ci rivediamo prestissimo in altra fiera per presentare altre novità. Nadir Balugani, amministratore delegato della Balugani.srl, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Fabio.